Vai, 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 vai Eeeh, ciao a tutti ragazzi sono Mattiz e bentornati in un nuovissimo video di Fortnite Non so se avete ascoltato qualche notizia durante questi giorni Però dai, un po' si poteva prevedere Il vulcano di Fortnite durante questa stagione 8 erutterà Esattamente, farà un casino incredibile Sulla mappa e tra poco scopriremo cosa succederà Intanto però posso dirvi che nella mappa in cui andremo a giocare oggi Il vulcano di Fortnite sta eruttando proprio in questo momento E quello che dovremmo fare noi sarà riuscire a scappare prima che ci uccida Mi raccomando ragazzi, un bel mi piace E soprattutto vi consiglio di andare nello shop Cliccare supporta un creatore e supportare Mattiz Perché guardate un po' qui Per ringraziarvi perché stiamo aumentando veramente tantissimo Ho deciso di preparare una nuovissima e divertentissima sorpresa per voi Quello che dovrete fare sarà shoppare qualcosa durante questi giorni Nello shop con il mio codice E taggarmi su Instagram con una foto oppure con una storia Io ovviamente guarderò tutti i post come già sto facendo durante questi giorni Perché siete tantissimi che lo fate E vi ringrazio infinitamente Ma questa volta ho deciso di farvi una sorpresa Infatti i vincitori avranno la possibilità di registrare un video proprio con me Che pubblicherò ovviamente sul canale E anche di ricevere una skin gratuita Sono sicuro che verranno fuori dei video divertentissimi insieme a voi Perché posso coinvolgervi finalmente nel mio canale E ovviamente ci sarà una skin a vostra scelta gratuita Fatemi sapere se questa idea può piacervi E ovviamente aspetto tutte le vostre storie e tutti i vostri post sul mio profilo Instagram Mi raccomando li controllo tutti Adesso però direi di non perdere tempo Anche perché questa challenge di oggi sarà molto impegnativa Proprio per questo sto indossando la felpa di Mattiz Sono ancora disponibili Trovate tutte le foto su Instagram E spero mi porti molta fortuna oggi Appena noi partiremo da qui Inizierà anche la lava insieme a noi Che... ok fatemi stare zitto Vabbè comunque partirà pure la lava insieme a noi Che... eh vabbè ma io non sono capace a fare questo gioco Perché io faccio i video su YouTube? Quello che volevo provare a dirvi è che non riesco E che partirà anche la lava insieme a noi E se noi andiamo troppo piano Ovviamente la lava ci prenderà L'obiettivo è prendere tutte quante le monete senza cadere di sotto Ma qui ragazzi la cosa sarà molto problematica Possibile che sia così difficile? Dai non ci credo Non ci credo che è così difficile Oh vedi Accovacciati Salta Bravi Dai ma... Massima concentrazione please 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 Let's go Let's go Ok Ci siamo Ci siamo Ci siamo Mamma mia Salto diretto di qua Oh mamma Oh mamma No No la monetina Mi ha distratto tantissimo Ok ok Però oh piano piano ci stiamo prendendo la mano Mi piace Mi piace un sacco questa mappa Però voglio arrivare alla fine adesso Anche perché le monetine sono 10 E noi siamo solo alla seconda forse Ecco Riferito alla persona che vincerà appunto L'evento del supporto a un creatore Io spero veramente per voi Che non registreremo un video del genere insieme Perché se no impazziremo in due Però vabbè Però vabbè La skin comunque la vincerete a prescindere E io invece E io invece che vinco Io voglio vincere questo Voglio vincere la gara No Non mi sono No 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 Ho visto già la tempesta Ho visto già la tempesta Però sto andando veloce Non è la tempesta È il vulcano Salto diretto Mi piego No Il salto qui è più lungo E io cado di sotto Cado di sotto C'era anche la lava attaccata dietro a me Quindi probabilmente sarei molto comunque È così semplice Basta pensare che tutto questo sia semplice Alla fine Dai 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 No 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 Non ero arrivato mai qui Però non sapevo che dovevo saltare più di là Bravo Bravo Salto largo Bravo Bravissimo No 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 mi sono buttato Ma il bello è che mi sono buttato proprio pianissimo Avete visto E vabbè ma quando vai così avanti è troppo complicato Cioè ti viene Ti diventi stupido facendo questa cosa Io vi consiglio veramente di non provarci eh No probabilmente non sono per niente pronto a fare una vera fuga da un vulcano Anche nella realtà Anche se spero che non accada mai in effetti Perché dovrei scappare da un vulcano nella realtà Però vabbè Bravo Bravo No troppo lento Uh Non era troppo lento Qua devo andare di qua Qua No No mi ha Si vedeva tutto rosso E non ci ho capito niente La lava La lava La lava La lava Il nostro nemico La lava Il nostro nemico Io la stavo per battere Io la stavo per battere La cosa divertente è che noi dobbiamo prendere 10 monete prima di finire il livello E io muoio qui Io muoio sempre qui A parte gli scherzi Io ne ho prese sempre 2 di monete Cioè al momento ne ho prese soltanto 2 di monete Capite? Capite il problema qual è? Che non siamo neanche a metà Ma che metà? Noi non ci siamo proprio Però 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 No 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 Questo è buono Questo è buono Se riesco a tenere sta velocità Questo è buono eh Ecco L'ho persa L'ho persa L'ho persa tutta la velocità L'ho persa tutta Eh si Eccola qui la lava Eccola qui Il fatto è che non puoi perdere tempo Una volta che parti Non devi più Più rallentare Devi fare Tutto al massimo della velocità Tipo Ecco vedete Già ho perso tutto qui Se non muoio adesso Morirò dopo Perché ormai ho perso troppo tempo Ecco appunto Mamma mia che brutta sensazione Morire così Ok da questo momento Metterò questa corsa Senza tagli Partirò dall'inizio E ve la farò vedere tutta E vi dimostrerò Come non morirò mai Vai Ok Questa parte Questa parte non si taglia Matti Quindi non puoi fare Figure di cacca Ok Ok Poi di Sì È durata tantissimo Bravo Bravo No 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 Oh 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 Calmi che questa è buona Calmi che questa è buona No Ecco Ecco Lo sapevo io Quando una volta che rallento Mi perdo tutta la concentrazione Spero veramente che il vulcano Non erutti mai Nella vera mappa di Fortnite Perché se no Io sarò veramente L'ultimo a scappare Però qui la situazione Non è per niente brutta Qui la situazione Non è per niente brutta No 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 che non lo è No che non lo è No che non lo è Lo è Lo è Fa schifo Questa situazione fa schifo Dai Così Questa credo sia Mamma mia Stavo per cadere di fuori Questa è la mia massima velocità Non ho mai fatto uno così veloce Mai Mai E io No No Cioè io veramente Non so che dirvi ragazzi Non è possibile Bravo 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 Oh 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 Oddio Oh No Sì vabbè Ma quanta lava c'è Una di qui Una di qui No 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 Non sono mai arrivato a questo punto E penso proprio che non ci arriverò mai più Ma come si fa lì a scappare Avete visto quanto cavolo è veloce la lava Riproviamoci subito No non ci riproveremo subito per niente Eh ho rallentato Eh ho rallentato Ho rallentato Qui devo recuperare Qui devo recuperare la velocità Se sbaglio qui Ecco Non lo faccio prima a buttarmi di sotto Ma in effetti guarda avevi ragione Ma il bello è che a me poi piace fare queste cose Cioè mi fanno impazzire Però piace Infatti vedete non mi sto arrendendo Il fatto è che Quella parte del ghiaccio Mi ha spaventato un botto Ma veramente tantissimo Cioè non penso che riuscirò mai a fare quel pezzo Se vabbè Si può rallentare in quel punto Soprattutto Qui però Qui però è buono Qui però è buono Qui è buono Qui rallento tanto Eh lo so Qui devo trovare il modo per non rallentare lì Ok Mai fatta così Mai fatta così bene Eccolo Bravo Bravo Bravissimo Mai 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 Ce la farò io a fare Una cosa precisa eh Ah Che casino Che casino Mi sto quasi per arrendere Mi sto quasi per arrendere Ve lo dico Qui ormai fortunatamente Un po' Abbiamo capito come funziona no? Si che l'abbiamo Eh non è vero Non l'ho capito Ma io non so neanche cosa sto giocando A che gioco è questo? Questa è mia Questa è mia Oh sempre in questo punto Ma guardate che è una cosa incredibile Dai E se io facessi così qua? No no Vabbè Eh questo era un mio tentativo Per provare a fregare tutti Però non ha funzionato Che è successo se faccio così? Oddio Non è che si va più veloci no? Vediamo Eh no Si va uguali Ok no Se no sarebbe stata illegale Come cosa Però vabbè Però vabbè Però vabbè Però vabbè Ok 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 Vai 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 No Non lo sapete che sembra che vado più veloce Facendolo due volte? Probabilmente è solo Un'impressione Boh Non lo so Non lo so Non lo so Ok Ok Oh Oh No No Ragazzi Ultimo tentativo Mi sto per arrendere Mi è venuto mal di testa a fare questa cosa Non ce la faccio proprio più Vediamo come va Se questo va bene Se questo va bene ne provo un'altra Se non ce la faccio Ciao Basta Fine Fine Al primo buco sono morto Ragazzi Spero che questa fuga dal vulcano Totalmente fallita vi sia piaciuta Se così è stato Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale E vi ricordo di andare nello shop Cliccare supporto a un creatore Perché da come vedete da questa immagine Ci sarà una bellissima sorpresa per voi Avrete la possibilità di registrare un video insieme a me E vincere una skin gratis Semplicemente shoppando qualcosa nello shop E taggandomi nelle storie o nei post di Instagram Vi ricordo che le felpe e le magliette di Mattiz Sono ancora disponibili nel sito in descrizione Magliette e felpe ufficiali Sia bianche che nere al momento Arriveranno anche altri colori durante l'estate So che non vedete l'ora E niente Consigliatemi nei commenti altre mappe da fare nella modalità creativa E noi ci vediamo domani con un nuovissimo video Ciao ragazzi Ciao